ciao in questo video voglio parlarti della respirazione in altri video precedenti ci ho già presentato altri esercizi altre tecniche di pranayama con questo andiamo proprio alla base della respirazione quindi per capire come è strutturata la respirazione yogi la respirazione viene divisa in quattro fasi non c'è solo l'inspirazione e l'espirazione ma ci sono anche altre due fasi intermedie che sono di ritenzione ritenzione a polmoni pieni quindi dopo l'inspirazione e ritenzione a polmoni vuoti quindi dopo l'espirazione perché suddividiamo la respirazione in quattro fasi quando facciamo gli esercizi di pranayama quello che cerchiamo di fare il nostro obiettivo è di controllare il respiro e renderlo più lungo la durata più lunga nel tempo quindi se lo suddividiamo in queste parti possiamo focalizzarci meglio gestire meglio il nostro respiro quindi il movimento del nostro corpo durante la respirazione quello che si fa spesso durante gli esercizi di pranayama è contare quindi aggiungere il conto un numero di secondi nel quale inspiriamo espiriamo e se vogliamo possiamo avere anche le altre due fasi quindi rendere la respirazione quella che viene anche chiamata respirazione quadrata quindi la stessa durata per inspirazione ritenzione a polmoni pieni espirazione e ritenzione a polmoni vuoti è un buon modo per entrare per conoscere meglio il nostro corpo il nostro modo di respirare e poi metterci a fare altre altri tipi di di pranayama magari più più complessi che coinvolgono anche altri muscoli o altri banda come respiriamo come dovremmo respirare normalmente durante la pratica facciamo una respirazione diaframmatica cosa vuol dire diaframmatica respiriamo con la pancia ok quindi con l'inspirazione cerchiamo di allargare i nostri polmoni soprattutto verso il basso quindi spingiamo il diaframma verso il basso e allarghiamo il nostro addome espirando contraiamo i muscoli addominali e buttiamo fuori l'aria dal naso solitamente per controllare meglio il respiro durante la pratica degli asana non riteniamo il respiro quindi non tratteniamo mai la respirazione né a polmoni pieni né a polmoni vuoti durante le asana il nostro respiro deve continuare a fluire continuamente un altro tipo di respirazione che possiamo fare è una respirazione completa quindi non solo diaframmatica ma cercando di usare al massimo la nostra capacità polmonare quindi inspirando iniziamo allargando l'addome e cerchiamo di continuare quindi di allungare leggermente il tempo dell'inspirazione facendo trovando spazio anche nella nostra cassa toracica immaginando che le nostre le nostre costole si alzino lateralmente quindi trovando spazio allargando i polmoni anche nella parte superiore immagina di sentire l'aria riempire i tuoi polmoni fino alle clavicole e poi scendere esalando completamente sempre con una leggera contrazione dei muscoli addominali questa è una respirazione più completa ed è ovvio che con questo la nostra inspirazione deve dobbiamo essere già un po' più allenati ad avere essere capaci a allungare un po' di più il tempo della nostra inspirazione quindi per ricapitolare la respirazione è divisa in quattro parti inspiro espiro trattenere il respiro a polmoni pieni o a polmoni vuoti che è una cosa che facciamo non durante la pratica degli asana ma quando vogliamo esercitarci come pranayama e migliorare il nostro respiro durante la pratica e anche come buona cosa sempre in ogni momento respiriamo con facciamo la respirazione diaframatica quindi con il nostro addome e se vogliamo possiamo ampliare il nostro respiro aggiungendo anche una respirazione un po' più toracica ok quindi questo è il modo la respirazione che chiamiamo il respiro yogi io ti ringrazio per aver guardato questo video se hai delle domande o dei dubbi lasciami un commento qui sotto e ci vediamo alla prossima namaste ciao 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 ciao